238.000 accessi di cui 170.000 arrivati con biglietti acquistati online. L'87esima campionaria internazionale della Fiera dell'Evante di Bari si chiude con un bilancio più che positivo. I numeri non possono essere ancora paragonati a quelli del passato ma la fiera nel suo processo di rigenerazione ha risposto bene e si proietta con ottimismo verso il futuro. Basti pensare che l'anno scorso in totale erano stati 120.000 i ticket acquistati tra i botteghini fisici e web. Il numero degli accessi complessivi è invece cresciuto di quasi 40.000 unità rispetto al 2023. Guardando al prossimo anno gli uffici della Fiera sono già al lavoro per riconquistare il terreno migliorando ulteriormente non solo i dati ma anche la qualità della campionaria. Da un lato si punta al ritorno dei motori della nautica, dall'altro si vuole rafforzare il potere istituzionale di interscambio che ha sempre caratterizzato la Fiera dell'Evante. La Galleria delle Nazioni, oltre a conservare il suo storico format di mercatino di prodotti provenienti da tutto il mondo, si avvarrà di una collaborazione con il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise con cui verrà presto stipolato un protocollo d'intesa attraverso il quale si proverà a realizzare un upgrade che coinvolga anche le grandi aziende che operano oltre confine. La vecchia galleria funziona, ha sempre funzionato, è qualcosa a cui i frequentatori della campionaria sono molto affezionati quindi nessuno vuole toccare quel format, però è il momento di andare oltre e quindi l'idea è quella di utilizzare il Corpo Consolare presente in Puglia e Basilicata per dare una forza di scambio tra i popoli da un punto di vista proprio commerciale. Valutiamo che il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise conta più di 40 consoli, generali e non, di cui tre consoli di carriera che hanno giurisdizione in Puglia, in Basilicata e in Molise. È la rappresentanza di più di 40 paesi, quindi c'è una potenzialità di contatti e di scambi non indifferente. Il presidente della Fiera dell'Elevante Gaetano Frulli a fiera conclusa ha fatto un resoconto sui risultati di questa settimana. Il dato dell'afflusso è buono, siamo contentissimi, va bene, ma la cosa che io leggo di grande positività è che chi ha comprato il biglietto online ed è venuto qui in fiera non è stato invitato da un espositore o è stato attratto dall'offerta commerciale e dalla completezza di quello che noi abbiamo creato. Di conseguenza questo significa che qualcuno ha comprato il biglietto, è andato lì, ha cliccato e si è venuto a fare un giro in fiera. È stata una campionaria che ha ripreso e ricostruito quel rapporto tra noi, gli espositori e i visitatori che penso che sia l'inizio di un nuovo percorso dove di fatto all'interno di una fiera generalista come questa stiamo andando a qualificare l'offerta tracciando i settori e dando un'identità forte ricordandoci sempre che stiamo parlando di una fiera B2C rivolta ai consumatori dove di fatto troveremo sempre un'offerta più adeguata verso il pubblico, il consumatore.